Ha dovuto prendere una decisione drastica il sindaco di Acquasanta Terme che ha deciso di mettere in zona rossa due frazioni nel comune camministra, ossia Pozza e Umito. La situazione purtroppo è delicata e particolare in quel focolaio che si è acceso in quelle due frazioni dove abbiamo deciso proprio in proporzione al numero di contagi rispetto agli abitanti che realmente ci sono in quelle due frazioni di istituire la zona rossa proprio per salvaguardare la loro salute ma anche per evitare una diffusione su tutte le altre frazioni e quindi nel capoluogo e quelle più popolate. Si tratta di due piccoli borghi montani che hanno visto in questi giorni un aumento significativo dei casi covid riscontrati. Considerando che si tratta di due borghi con pochi abitanti, il rischio è che il contagio si possa diffondere fuori controllo. L'Asur ha iniziato a effettuare i tamponi su tutta la popolazione residente nelle due frazioni per definire il focolaio e tracciare i rispettivi contatti dei pazienti. Per questo scopo è stato allestito un apposito container. Quanti abitanti ci sono in entrambe le frazioni? 68 abitanti, 68 abitanti con un indice comunque alto di contagi perché siamo intorno ai 14 contagi, 14 positivi, più persone in attesa di ulteriore tampone. E poi delle persone che comunque hanno avuto contatti nei giorni precedenti con queste persone e che però ancora non erano state tamponate e quindi è necessario che si faccia uno screening di tutti. Per i beni di prima necessità e medicinali si potrà far riferimento alla croce verde del comune. All'interno del territorio non si potrà circolare se non per esigenze lavorative o situazioni di necessità e in ogni caso solo per motivazioni strettamente necessarie. La Scolano è fra le zone più a rischio in quanto ad oggi è quella dove i casi hanno visto la maggiore diffusione nella nostra regione. Il tracciamento e l'avvio di nuove zone rosse in particolare sembrano essere i due strumenti più idonei per fronteggiare la minaccia.